Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al km 367-500 tra Arezzo e Monte San Savino. Sempre in direzione Roma, coda e attratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ina 11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Monticatini e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, un km di coda per lavori tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!